Buonasera a tutti e bentornati sul mio canale, siamo in compagnia di Joseph che ha un canale si chiama di moda, cos'era moda boys una roba del genere, dopo te lo metto in descrizione, dopo comunque mettiamo in descrizione appena la troverò fuori e fa un video di bella bottiglia di ginger fruto a dietro e praticamente questo canale fa tutti i video su moda e style, roba del genere che è anche quello per i capelli, che praticamente fa acconciature, fa vedere come si fanno acconciature, i prodotti da usare, come vestirsi io ho usato un paio tutorial e basta, infatti si vede che l'ho usato talmente tanto non so neanche come si chiama e comunque vi lascio tutto nel link sotto, oggi facciamo un video, iniziamo una saga, una serie nuova mi ascolta una roba mi ascolta una roba mi ascolta una roba e se l'introduzione ti teni quella di prima ho già cansella allora no, lo metto vabbè, comunque perché parte skype vabbè iniziamo la serie di skype iniziamo la serie skype si esatto, serie skype comunque qui vedete Camtasia userò per registrare questo nuovo gameplay allora il gameplay che facciamo è minecraft ovviamente non è mai stato fatto da nessuno tranne 750 miliardi di giocatori youtuber nel mondo ma quanti su youtube? boh, non lo so, 4-5 sicuro che hanno fatto proprio tutto fatto bene alcuni hanno fatto la prima serie per essere stufati e questa quanto durerà? questo non lo so, finchè non ci stuferemo, continuerà a durare quindi eccoci qui facciamo stavolta partire la registrazione ok, F10 lo troveremo fuori dopo eccoci qua riprendiamo la partita questo è come si presenta all'inizio siamo non so dove in una prateria spiega un po' cosa si deve fare allora praticamente in questo strana cosa dobbiamo spaccare i blocchetti e costruire e cercare di sopravvivere per dei giorni ai polli famerici sopravvivere a che? sopravvivere a zombie le notti tutte le notti che ci sono infatti dovremo cercarci degli alberi fare un rifugio e andare ma cosa c'è? se c'è una fine a sto gioco? teoria no cioè no forse si che c'è una fine ma nessuno si è mai arrivato comunque allora cerchiamoci un posto qua abbiamo l'acqua in caso di incendio perché ogni tanto scavando si trova la lava quindi prendiamo fuoco qui c'è un pollo crudo lì ci sono le pecore andiamo subito a prenderle per farci del letto ma sono dei polli ma io volevo la pecore no? il pollo allora ci troviamo ok questa è la situazione che volevo infatti ci troviamo questa zona pianeggiante per per costruirci la nostra home la nostra casa qui abbiamo della pietra del granito abbiamo abbiamo già una miniera qua di carbone che servirà per fare le torce qui abbiamo già una grotta che è anche facile da entrerci si esatto esatto quelle prime siamo caduti dentro aspetta che non sprofondiamo infatti dobbiamo trovarci degli alberi che sono siamo in avatar c'è il mondo sospeso del vuoto prova ad andare lì c'è anche della lava là sotto no era bello troppo ok c'è quella è un pezzo che vola no è collegato a uno stretto dita si ma qua vola c'è c'è è stufato a casa si stravolgiamo le leggi della fisica guarda tagliamo la legna e l'albero rimane in piedi magicamente cinque tonnellate di legna rimangono sospese nel vuoto ok allora prima cosa ci dobbiamo prendere della legna per fare la come si chiama la la casetta di costruzione non so mai come si chiama per costruire vari oggetti poi dobbiamo costruirci una cassa che così se moriamo ci rimangono tutti gli oggetti senza perderli ogni volta quando abbiamo due due di quattro di legna ne prendiamo ancora un po' poi dovrebbe andar bene per fare un po' di quello che dovevamo fare insomma questo posto è pieno di grotte ce l'ho un'altra là comunque è la pecora? dov'è la pecora? no no mi dicevo dov'è la pecora eh la pecora la vorrei vorrei che venisse fuori ma aspetta dove era il posto? che non dobbiamo mica perderci il posto che se prendiamo il posto siamo fregati ma si va avanti aspetta che non finiamo la grotta ok ok qua c'erano i polli quindi era di qua eccolo qua addosso al pollo e ciao vabbè niente pollo non si mangia pollo per cena ok allora facciamo eccoci qua dovremmo fare legno di abettra ce ne manca no aspetta dovremmo riuscirci che roba è? voglio vedere se mischiando vari tipi di legno me lo fa fare no scherzavo cos'è cos'è quella roba lì? dobbiamo fare la la cassa di fabbricazione ma lì guarda ti dava ah è l'oggetto che ti dava eh fai un po' di quello eh no ma sono inutili quelli servono per farla a casa ma inutile senza ma con la pepera ma con la pepera ma come si fa a letto? con la pepera ci abbiamo anche del mais ottenuto distruggendo delle erbacee dal giardino ok abbiamo un po' di lana aspetta se viombiamo un'altra un'altra ancora pam pam vieni qua ci vorrebbe una spada sarebbe tutto più semplice vada retro vada retro vada retro vada retro vada stupida non scappa neanche lì si ce n'era un'altra ce n'era un'altra dove? dritto lì a fuori destra lì ma si lui sta eh c'è la vacca davanti scusami aspetta la picchiamo con la carne pan con la carne di pepe la prendiamo ok dovremmo avere abbastanza questo perché fa un po' cagasto giù tiriamo la carne eh perchè non si vedono i tasti qua ok dobbiamo adesso c'è il nuovo come c'è il nuovo? l'uovo di gallina nuove ricette nuove ricette la torta beh possiamo farla la torta possiamo farci anche la torta pensate allora ci prendiamo l'ultimo pezzo di legno così possiamo farci la craft box la? craft box smart box craft box è per questione lì banca da lavoro spacchiamo la roba con con l'uovo con l'uovo è con l'uovo non si rompe non si rompe non si rompe guarda guarda come ti rianchi la legna senza con l'uovo ok no basta ok 4 di quelle lì e basta boh abbiamo la nostra craft box ora ma siamo una donna se sbaglio tutto sbaglio tutto sbaglio tutto sbaglio tutto sul serio aiuto oh cavoli sta già diventando notte fa il letto eh fa il letto non ho non mi fa trovare cosa è la smart box eh ma non me la do la smart box ah si devo metterla giù la smart box però mettiamo è una nuova offerta la smart box avete minuti limitati messaggi limitati fuori ip allora questo è il posto prediletto ok mettiamo la nostra anche la piscina si abbiamo anche le piscine private pensate ok con la rotellina ci spostiamo banco da lavoro banco da lavoro ok ecco qua il letto ok 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 ora siamo immortali letteralmente e ci mettiamo qua ah ora sarebbe da cosa facciamo adesso prendiamo un po' di no prendiamo le cose qua ci facciamo le torce per la notte ma con la mano si questa è la super forza anzi vediamo la durezza dell'uovo non si rompe non si rompe si sta ancora registrando si sta ancora registrando ma si a proposito a quanto siamo aspetta 10 minuti troppo l'altro poco chiudo infatti adesso volevo vedere se riuscivo a fare cos'è è da nessuna notte basta allora vabbè ci mettiamo via l'uovo si è andato a dormire eccola la vedete le sto venendo la notte come andate oggi dal mio letto facciamo così prima che arrivi lo zombie guarda è lo zombie ahhh ti uccido te uccido stai uccidendo oh 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 vai via non voglio chiudere l'episodio morendo mi sa che si vai via vai via aiuta stai è andato da dietro no ok no andiamo a dormire prima ti prego non arrivare ti prego ti prego e non c'è fu perché mi sa che ha registrato ok abbiamo avuto come giornata un incontro ravvicinato come si muove con questi si con il mouse ti sposti al visuale si va tanto si ha finito allora praticamente allora praticamente ho c'è che non ci sia ok diciamo che per questo episodio praticamente abbiamo finito poi vedo ogni tanto continuerò quando avrò tempo un po' e abbiamo visto uno zombie quindi ce ne saranno molti quindi qua dobbiamo costruire la nostra casetta con la piscina incorporata pensa che bello casa con piscina cosa vuoi di più c'è il letto ok poi abbiamo la stella la torta c'è la torta poi abbiamo la lastra il pulsante che non so cosa serva le assi di quercia anche le stai facendo lo so infatti vabbè o no ok 12 assi di quercia e basta 5 5 6 17 assi di quercia ci facciamo no non lo stai facendo dei legnetti lo so adesso ti faccio vedere che adesso divento immortale guarda pam pam cuccia pam 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 piccone di legno andiamo a spaccare con la pietra con la legna quindi ci possiamo fare le torce adesso quindi abbiamo chiudiamo l'episodio che prendiamo le nostre prime risorse di di mattone 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 questa roba qua insomma mattone beh piera la sempre stessa di carbone carbone si beh non cambia niente da mattone carbone ecco allora ecco guardate come si rompe bene ok le nostre prime risorse di carbone qui in teoria posso dedurre che ci sia una miniera perché ma è già là sotto la miniera come adesso si ma non voglio andarci senza torce quindi prima mi farò delle torce poi ok questo è il carbone allora ci salutiamo qua per questa è tutta allora vi salutiamo e iniziamo la costruzione di una casa di base e poi nei prossimi episodi seguiranno andremo anche a esplorare quella benedetta miniera che non voglio andare a esplorare da solo voglio andare a esplorare con una bella spada di ferro e qualcos'altro è un peccato che non ci sia il villaggio ecco dobbiamo cercare se c'è un villaggio come quello che avevo trovato nella più eh craft che avevo trovato ci avevo un villaggio con tutto dentro piccoli roba di legno più ferro quindi ho nel giro di mezza giornata avevo già tutto pieno quindi spero di avere la giornata fortunata quando cercheremo i materiali e ci salutiamo un saluto anche dal suo canale e buona serata a tutti ciao